Dopo due anni di silenzio discografico e di assenza dalle scene, Cesare Cremonini riapre il suo sipario. E lo fa annunciando un nuovo album e anticipato subito da un singolo, e è un tour che nell'estate del 2025 lo vedrà tornare ad esibirsi nei principali stadi italiani, olimpico di Roma compreso. Allo scoccare della mezzanotte di domani, martedì 24 settembre, arriverà sulle piattaforme di streaming Ora che non ho più te, il sipario che si apre quello che il cantautore bolognese definisce come, un progetto fatto di tante scenografie che svelerò canzone dopo canzone, in questo brano c'è tutta la voglia di tornare a parlare un linguaggio più reale, delle cose che vivo, senza nascondermi. Sto attaccato alla vita, lavoro, viaggio, conosco, mi butto nelle esperienze. Anche le scelte musicali rispecchiano questo atteggiamento, è un brano che vuole farti cantare, urlare, ballare con i piedi per terra. Cremonini ha lavorato al brano insieme a Davide Petrella, autore dietro i più grandi successi della musica italiana di questi anni, da sesso e samba di Tony F e Gaia a un ragazzo o una ragazza dei Colors, passando per due vite di Marco Mengoni, Cenere di Lazza, la coda del diavolo di Rcomi, vertigine di Elodie, ma a lanciarlo fu proprio Cremonini, quando nel 2014 lo arruolò per l'album Logico. Tra i produttori c'è invece Alessio Natalizia, che con il nome d'arte di NotWaving ha conquistato la scena elettronica, collaborando anche con Cosmo. Esiste un passato nella canzone, esiste un amore finito, ma esiste anche una nuova vita da affrontare per me e per chi era con me. Ora che non ho più te non riposo mai. Non c'è stato niente di più vero per me. Non servono metafore, quando non riposi più, quando non riesci più a dormire. Poi la nuova musica uscendo ti veste di nuovo, tutto all'improvviso cambia. Sei padrone, per alcuni secondi, del tuo destino, anticipa l'ex Luna Pop. L'album arriverà entro la prossima primavera, in vista della partenza, prevista per l'8 giugno 2025 da Lignano Sabbiadoro, del tour negli stadi. La tournée farà tappa il 15 giugno allo Stadio San Siro di Milano, il 19 e il 20 giugno al Dallara di Bologna, il 24 giugno al Diego Armando Maradona di Napoli, il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina, il 3 luglio allo Stadio San Nicola di Bari, l'8 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, il 12 luglio all'Olimpico di Torino e il 17 luglio all'Olimpico di Roma. La vendita generale dei biglietti si aprirà alle ore 11 di venerdì 27 settembre su LiveNation.it.